Io e Costanzo ci siamo conosciuti occasionalmente a Venezia perché lui faceva, pensate, aveva ripreso e faceva alla fine degli anni 87-88 e teneva il filo delle conferenze stampa alla mostra del cinema. Lì l'ho conosciuto, forse era l'88. Nel 91 io sono passato a Mediaset per creare il TG5 e lui era Maurizio Costanzo, show. Perché poi secondo me all'anagrafe ormai hanno aggiunto show. E lui è sempre stato un fratello maggiore, non un maestro. In 18 anni mille sono i ricordi, mille sono le cose che abbiamo fatto insieme ed è ovvio che ci sono tanti, tanti ricordi, ma se voi mi permettete, se nessuno si offende, me li tengo per me.